Può la memoria porsi dei limiti? Può la coscienza collettiva permettersi delle omissioni? E in che modo la memoria può coniugarsi con la necessità di conoscere e capire senza ancorarsi ai soli sentimenti? Sono gli interrogativi posti nell'ambito dell'iniziativa sul giorno della memoria che si è svolta nell'aula magna dell'Istituto Scolastico Ettore Romagnoli di Gela. Durante l'incontro sono stati spiegati agli alunni delle seconde classi la vicenda degli ebrei di Sicilia, illustrata dall'archeologa medievista della sovrintendenza di Ragusa, Salvina Fiorilla, e quella delle donne che hanno combattuto immolandosi durante la Seconda Guerra Mondiale, molte delle quali ebrei. Questo ultimo aspetto è stato curato dall'avvocato Giovanna Cassara, responsabile dell'Unione Donne d'Italia di Gela. Quello che abbiamo fatto è stato tentare di ricostruire la presenza ebraica in Sicilia, storicamente dall'epoca romana in avanti, e di comprendere come sia scomparsa invece questa presenza alla fine del Quattrocento a seguito delle persecuzioni di Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia. E quindi come mai poi durante la Seconda Guerra Mondiale la Sicilia non abbia avuto la disgrazia di vedere tanti propri figli partire per i campi di concentramento tedeschi. Noi volevamo fare in modo che i nostri ragazzi di Seconda riempissero un tassello della loro memoria. Certo loro hanno una memoria individuale, hanno una memoria sociale legata alla loro famiglia, ai genitori e nonni, hanno anche già una traccia di memoria collettiva. Ma perché non spiegare anche a questi ragazzi il motivo per il quale la Sicilia non ha dato il suo terribile contributo alla Shoah? Come non spiegare a questi ragazzi ciò che ha portato la Sicilia ad essere priva di quelle comunità ebraiche che invece costellavano tutta quanta l'Europa? E allora attraverso il recupero di un fatto lontano nel tempo ma è importantissimo perché presente nella storia di tutti ecco che noi miriamo veramente alla conservazione della memoria ma quella lunga e quella profonda.